Ci sono 120 negozi che sono contrari e che abbiamo raccolto le firme, ma sono sicuramente molti di più. Ma quello che ci ha stupito sono le oltre 200 firme delle commesse e dei commessi che nemmeno loro vogliono tenere aperto. Tuffati nel cuore di Padova, questo è lo slogan delle aperture domenicali dei negozi del centro storico, fortemente volute dall'amministrazione comunale e dalla ASCOM, ritenendole a vantaggio sia dei consumatori che dei negozianti. I piccoli commercianti però non ci stanno, accusando l'amministrazione comunale, che per loro opera esclusivamente a favore delle grandi firme. I piccoli negozi non possono supportare questo ritmo. I piccoli negozi del centro storico, poi tra l'altro, sono il più delle volte gestione familiare, quindi significherebbe per noi lavorare 7 giorni su 7, è improponibile. Non tutti credo che lavorino 60-70 ore alla settimana come faccio io, per cui insomma non l'ho spiegato lì, però perlomeno un giorno alla settimana di riposo penso sia sacrosanto prenderselo. È morale non dal punto di vista cattolico, ma è morale proprio dal punto di vista umano. Non manca neppure un rimprovero alla curia, solitamente pronta contro gli abusi verso i lavoratori, che a tutt'oggi è rimasta inerte. Qui ci vorrebbe veramente un'indicazione da parte del nostro Vescovo, proprio per impedire che questo scempio si compia all'interno della nostra città. Noi la domenica, l'abbiamo detto, vogliamo andare a messa e vogliamo stare con le nostre famiglie.